La storia ha quasi dell'incredibile perché la gran parte delle perdite sono riconducibili a investimenti errati, almeno così si dice sul mercato dei cambi. La sola provincia di Palermo ci avrebbe remesso la bellezza di 40 milioni di euro che non sono proprio due noccioline versate a più riprese dagli assessori al bilancio in questa finanziaria con sede formalmente a Como, molto legata alla Svizzera ma in realtà fatta tutti da personaggi dell'entourage siciliano di diversi politici locali. Il curriculum degli amministratori è divertente perché non ce n'è solo uno che si occupava di finanze, erano tutti dei commercialisti o addirittura dei commercianti di tessuti quindi improvvisamente si sono inventati finanzieri e hanno perso tutto il capitale e forse di più. Ovviamente la procura e in particolare il nucleo tributario della Guardia di Finanza di Como sospetta che in realtà queste siano perdite fittizie e che i soldi siano scomparsi in qualche tesoretto all'estero in paradisi fiscali. Ma queste sono cose che accadono a Como, a Milano invece no. A Milano succede che si scopre che c'era una filiale della BNL che faceva affari con i clan dell'Andrangheta, tanto che l'antimafia ha dovuto imporre un commissario e ha messo un amministratore giudiziario in banca. Beh sì questa tra l'altro ha due passi dalla nostra sede, non so se l'hai notato, è la filiale BNL di Piazza Firenze, era la filiale utilizzata di fatto dal clan Valle, una serie di società fiduciarie sulle quali operavano gli uomini del clan Valle, quello che era proprietario della villa di Cisliano che è stata sequestrata lo scorso anno, è la prima volta in Italia che i PM ottengono il provvedimento di sospensione del legale rappresentante di una sola filiale, di una banca, peraltro oggi controllata da BNP Paribas, la banca avrebbe appunto concesso fidi di tutti i tipi alle società di questo clan e ci sono le intercettazioni telefoniche del direttore della banca che dice anche in pensione sempre a disposizione per sostenere il business degli andrangatari che aveva scelto questo istituto nel centro di Milano. Ieri, se ci avete fatto caso, i giornali dedicavano attenzione all'inchiesta che era stata aperta sulla dispersione dei fondi europei che a Napoli erano stati indirizzati a un concerto di Elton John che non era esattamente una priorità per l'Unione Europea, se si guardano i grandi numeri, se si guarda la relazione annuale della Corte dei Conti europea, scopriamo che dei fondi dell'Unione ne viene sprecata una quota inquietante che ammonta a circa 5 miliardi di euro l'anno. Sì, questa non è la prima denuncia della Corte dei Conti e sarà già la terza o quarta volta che la Corte dei Conti mette in evidenza come appunto vengono sperperati o addirittura truffati enorme quantità di fondi dell'Unione Europea e questo si incrocia con la denuncia di pochissimi giorni fa, almeno così sembra una denuncia dello stesso Ministro Tremonti che ha detto che i fondi FAS, i famosi fondi per le aree sottosviluppate, sarebbero di fatto finiti, non si capisce neanche dove siano andati perché tutti hanno pescato lì, solo per il terremoto nell'Abruzzo sarebbero stati assorbiti quasi 10 miliardi di FAS dei 30 che c'erano a disposizione almeno fino alla scadenza dello scorso anno. Cioè non ho capito, non li trova più Tremonti, è come quando io mi metto a cercare per ore e ore le chiavi della macchina e smadonno contro tutti perché sicuramente... Lui non smadonna perché non è nel suo stile, possiamo immaginarlo un po' piccato che dice dove sono finiti quei soldi, cazzo. Mi rifa le limitazioni di Tremonti? No, no, non ci penso niente. Cioè o mi fa l'imitazione di Tremonti o mi fa quella dello struzzo impazzito. Cos'è lo struzzo impazzito? E allora mi faccia Tremonti. No, 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 basta, abbiamo già dato. Va bene. Bruzzate di questo tipo. Non arriverà mai il giorno in cui avremmo sufficientemente dato, professore Di Stefano. Invece, invece, c'è un altro dato interessante dal punto di vista numerico, ovvero quello che ci ricorda che l'economia sommersa in Italia vale circa il 22% del PIL. Cioè una somma che, se non ricordo male, ammonta i 335 miliardi di euro l'anno. Sì, abbiamo avuto un balzo in avanti, come avrebbe detto in epoche diverse, il grande timoniere. Ma non era un balzo in avanti verso l'uguaglianza, ma bensì appunto verso il nero. L'economia sommersa italiana, ovviamente per effetto della crisi, questo l'aveva già verificato l'Istat negli ultimi tre anni, è cresciuta a dismisura. Questa stima viene dal sistema di pagamenti Visa. Credo che sia anche una stima in parte interessata, anche se con dati molto reali. e ci posiziona, da questo punto di vista, veramente al top assoluto a livello europeo, il 22%, meglio di noi in questa classifica del nero, fa solo la Grecia con il 25% e poi allo stesso livello, un poco sotto noi, la Spagna col 20% e il Portogallo col 20%. Per dare un termine di paragone, la Germania sta intorno al 15% di economia sommersa. Professore Di Stefano, dicono i critici del governo che l'instabilità interna, la compagine governativa, ha contribuito ad aumentare lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. Non sappiamo se sia vero o non sia vero. Quel che è certo, invece, è che l'agguato di Fini è costato al titolo Mediaset circa sei punti in borsa. Eh sì, abbiamo visto. Secondo me è tutto un dato di fatto. Da quando si vocifera delle dimissioni di Berlusconi, da quando si ipotizza che il Presidente del Consiglio non arriverà a mangiare il panettone a Palazzo Chigi e forse solo a fare il bunga bunga, ecco, il titolo è crollato del 6% perché evidentemente tutti pensano che i business di Mediaset non possono che essere penalizzati da un cambio della guardia alla Presidenza del Consiglio. Il business di Mediaset non sappiamo che sorti avrà, o perlomeno non sappiamo che sorti avrà in relazione alla crisi di governo. Quello che sappiamo è che invece il business di un piccolo concorrente, piccolo poi nemmeno tanto, ha incontrato delle difficoltà. Stiamo parlando di un altro tycoon televisivo, si chiama Lagostena, e sta cercando di salvare le sue televisioni dal crack. Lagostena, se non ricordo male, è un signore che avevamo incontrato anche in occasione di un'altra inchiesta, però. Sì, quella sull'arresto del famoso, allora assessore al turismo della regione Lombardia, il mitico... Lui, Pier Gianni Prosperini. Esatto. Che c'entra Lagostena? Perché Lagostena Bassi, proprietario di Odeon TV, era stato arrestato insieme proprio a Pier Gianni Prosperini per il finto giro di pubblicità sulle emittenti di Odeon TV, in pratica, secondo l'accusa, Prosperini pagava Lagostena Bassi con i fondi della regione per presunti spot televisivi. In realtà Lagostena Bassi riaccreditava allo stesso Prosperini gran parte di questi soldi che arrivavano dalla regione e finivano appunto nelle tasche dell'allora assessore al turismo. Adesso Lagostena Bassi, che in passato è stato anche un grande amico di Antonio Di Pietro, si è affidato alle cure di Daniele Di Scepolo, un avvocato esperto in ristrutturazioni, perché l'insieme del gruppo Profit, sotto il quale stanno Odeon TV, Tele Reporter, Tele Campione, Canale 10, Tele Liguria, Tele Genova, Arezzo TV, perde un sacco di soldi, per la precisione su un fatturato di 9,8 milioni a una perdita di 4,9 milioni, quindi veramente pesantissima, che si somma ai 14-48 milioni di buco dello scorso anno e adesso c'è un piano di ristrutturazione per una vendita a pezzetti, semmai si troveranno gli acquirenti, delle varie emittenti e degli studi televisivi che fanno capo appunto a queste televisioni, alcune anche storiche come Tele Genova. A proposito di ristrutturazioni, e glielo chiedo al volo perché siamo arrivati quasi alla fine della trasmissione, ci sono novità sulla vicenda di Ligresti? Beh, la novità principale è che il piano si è completamente inceppato, il piano di salvataggio con l'aumento di capitale almeno per ora è rinviato, nonostante le banche confermino il loro impegno a sostenere il gruppo di Ligresti, che lo ricordiamo viaggia ad oltre un miliardo di debiti tra la situazione pessima dal punto di vista immobiliare e la difficoltà nella gestione dell'acquisizione della SAI, la compagnia assicurativa fatta tutta a debito e adesso i conti non tornano, ma io credo che alla fine Ligresti ce la farà come sempre perché nessuno ha intenzione di far saltare il signor Ligresti e i suoi affari a Milano perché darebbe molto fastidio a molti. Senta, siamo arrivati veramente alla fine, nell'atto di salutare e di ricordare a tutti quanti gli ascoltatori che ci ritroviamo anche la prossima settimana, sempre alle 8.45, sempre sulle frequenze di Popolare Network, le posso fare una richiesta? Sì. No, visto che il mio compleanno mi canta tanti auguri come aveva fatto Marilyn con il presidente Kennedy. Non so se sono capace. Però non ha detto di no, eh? No, no, se è il tuo compleanno non posso... Ormai è una volontà annullata, professor Di Stefano, ho pietà di lei, non glielo faccio fare. Va bene, comunque tanti auguri. Grazie, grazie. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, ricordiamo che per scrivere al professor Di Stefano per il giorno delle locuste. La mail è locustetradiopopolare.it e che il podcast lo trovate nel sito di Radio Popolare, là dove c'è il bottone dei podcast. Professore, mi sia bene, buon weekend, saluti dagli ascoltatori. Buon compleanno! Grazie, grazie, grazie. Ciao ascoltatori, state bene, alla prossima! Sì, alla prossima! Ciao! Grazie a tutti.